segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te ritrovare un grande del giornalismo italiano furio colombo è stato per anni corrispondente negli stati uniti è stato direttore dell'unità fondatore del fatto quotidiano oggi editorialista della repubblica colombo bentornato parto subito da una dichiarazione affidata come suo solito ai tweet di carlo calenda il quale dice venia siamo in piena emergenza nazionale per quel che riguarda la crisi energetica invito tutti i partiti e le forze politiche a sospendere la campagna elettorale lei che ne pensa di questa proposta che a tutta prima sembrerebbe curiosa beh mi è tre mi attrarrebbe nel senso che non amo questa campagna elettorale improvvisata e fatta di corsa anche un po malamente nel mezzo dell'estate sarei stato felice se non ci fosse stato se non fosse stato scoppiato questo caso di togliere di mezzo il governo draghi per poter andare subito alle elezioni di cui non avevamo bisogno in una situazione che non era affatto di emergenza a questo punto la frase di calenda è un po tipica di fase di calenda cioè fa effetto è vivace comprende un senso di spirito e di iniziativa e una voglia di lasciare il segno c'è un suo timbro come fa continuamente quando interviene nella vita pubblica vediamo il suo timbro lo riconosciamo va bene calenda pensa così non credo che abbia senso a questo punto questa frase allora forse avrà apprezzato di più invece le parole che ieri hanno segnato la giornata politica dal palco del meeting di rimini mario draghi quello che per tanti è sembrato un discorso di commiato l'italia ce la farà chiunque sia il governo che la guiderà dopo di me lei condivide questo stesso ottimismo del nostro presidente del consiglio devo dire che di draghi condivido tutto mi è sempre piaciuto l'ho sempre seguito mi è parso il periodo del suo governo uno dei migliori della repubblica dal 1945 quindi se lei mi dice le piace ha apprezzato draghi e ti piace il modo in cui si è espresso in quel discorso direi sì su tutto meno che sulla su quella frase perché perché conta avere un po di anni di esperienza e di vita come accade a me e che sono molti questi anni e in questi anni ho visto tanti governi ho visto tanti cambiamenti di persone ho visto tanti variazioni nel mondo in cui vivevo e nei governi e nei modi in cui venivano guidati non è vero che sono uguali e che se la cavano in ogni caso ci sono casi in cui se la cavano e casi in cui dobbiamo vigorosamente sperare che non ci siano danni troppo gravi perché si avvicinano anche persone che potrebbero avere il governo in mano e che potrebbero fare dei danni molto gravi quindi quella frase quell'unica frase non la condivido allora voglio coinvolgere Marco Antonellis in questo è stata Grazie a tutti